La parrocchia della sua diocesi può essere presenti qui in piazza San Pietro, il Papa che dice che intima il suo autista di fermarsi per una carezza, ancora un bacio e il richiamo dello sport, questa maglietta. Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace per il mondo intero. Pace per il Medio Oriente, in particolare tra israeliani e palestinesi che faticano a trovare la strada della concordia affinché repentano con coraggio e disponibilità i negoziati per porre fine a un conflitto che dura ormai da troppo tempo. Pace in Iraq, perché cessi definitivamente ogni violenza e soprattutto per l'amata Siria, per la sua popolazione ferita dal conflitto e per i numerosi profughi che attendono aiuto e consolazione. Quanto sangue è stato versato e quante sofferenze dovranno essere ancora inflitte prima che si riesca a trovare una soluzione politica alla crisi?